quanto siamo sinceri quanto siamo sinceri verso noi stessi la sincerità non è un fatto scontato a volte siamo capaci di mentire a noi stessi shakespeare diceva accogli sempre l'opinione altrui ma pensa a modo tuo e soprattutto sii sempre fedele a te stesso chiediamoci quanto siamo fedeli e leali verso noi stessi quanto siamo sinceri ma per essere sinceri dobbiamo essere consapevoli dei nostri desideri cosa desideriamo chi ci ha messo in testa quei desideri siamo liberi di pensare freud dice di no dice che siamo condizionati da tante cose che ci rendono falsi come delle marionette l'io assume delle maschere identificandosi in alcuni personaggi che crede di essere in noi c'è un intero mondo interiore che vorrebbe rivelarsi andando oltre i ruoli sociali che l'io interpreta essere sinceri con se stessi implica uno smascheramento e quindi una disidentificazione di quell'io che siamo convinti di essere la sincerità verso se stessi è il primo passo verso la gioia di essere se stessi ma questa sincerità implica una tensione tra la parte autentica dell'io e le sue maschere sociali tensione significa contraddizione perché la maschera ci fa sentire comunque parte di un gruppo ma allo stesso tempo imprigiona la nostra dimensione più autentica e creativa che per esprimersi ha bisogno di libertà nonché di coraggio quanto siamo sinceri e quanto possiamo essere sinceri la possibilità di essere sinceri è una scelta che va guadagnata con la consapevolezza di ciò che siamo ad esempio noi non siamo consapevoli di parlare con un'inflessione dialettale finché non ci confrontiamo con gli altri che parlano con un accento diverso dal nostro allora capiamo dal confronto capiamo ma tante cose restano poco evidenti gli atteggiamenti i valori la visione del mondo le modalità comunicative tipiche di una determinata famiglia tutti questi atteggiamenti che facciamo nostri li abbiamo assimilati acriticamente e quindi non lo sappiamo e allora l'essere sinceri con se stessi prevede l'ascolto della nostra voce interiore quella voce che generalmente viene soffocata dal rumore del mondo come accennavo è un percorso di differenziazione da tutti quei dettami che provengono dal mondo esterno quindi visto che siamo condizionati degli altri la realizzazione della nostra unicità inizia con un processo di decondizionamento da tutto ciò che fino a quel momento ci ha reso integrati in un determinato contesto sociale familiare e culturale la ricerca di questi valori nostri diciamo personali che jung chiama valori individuali è una ricerca difficile e rischiosa molto rischiosa chi è che se ne frega dei pericoli e dei rischi è l'eros è l'eros che se ne frega altamente di tutto e va per la sua strada se non esistesse questo impulso erotico la vita non sarebbe altro che un'esistenza indifferenziata fatta di identificazioni e di maschere che nascondono il vero mondo interiore e allora grazie al coinvolgimento affettivo il pianeta interiore vuole manifestarsi a eros gli prudono le mani non se ne sta con le mani in mano comunque c'è da chiarire che non possiamo fare a meno della vita comunitaria e può accadere che i valori individuali coincidano con quelli collettivi ma anche in questo caso questi questi valori devono essere frutto di una autentica ricerca interiore i valori devono essere conquistati ogni volta solo così acquistano un significato erotico e quindi autentico da questo discorso capiamo che il vero fallimento esistenziale è quello di non vivere la propria vita in quanto siamo identificati con la maschera e aderiamo acriticamente ai valori collettivi ma questa è una vita spenta è una vita non erotica e quindi è una vita non spesa a cercare è una vita non vissuta e ogni vita non vissuta è un fatto estremamente negativo che crea aggressività del mondo intero l'uomo che riesce a sentire la sua vita non vissuta è già fortunato perché si ammala e così avverte la propria nullità il sintomo della malattia è un fatto positivo perché permette di svegliarsi e cioè di rendersi consapevoli del proprio essere falso solo dopo ci si può avviare ad un processo di disipnotizzazione perché il paziente che viene da noi è in uno stato ipnotico è in uno stato simile a quello ipnotico perché ripete delle frasi come se fosse in trance la can di fronte al paziente si chiedeva sempre chi parla chi sta parlando al posto del paziente e perché il paziente parla sempre di qualcun altro perché non può fare a meno di parlare di qualcun altro ecco le parole vuote parole che suonano false sono sempre pensieri privi dell'essenza vitale e allora sono parole morte in quanto qualcun altro parla per bocca del paziente può essere il padre la madre può essere un mito tutti questi parlano emettendo suoni sgradevoli che suonano male non c'è armonia nella voce del paziente e non c'è armonia nemmeno nel suo cuore la sua voce suona artefatta non è melodiosa perché sta ripetendo qualcosa che non è suo con il procedere delle sedute le parole si ravvivano si riempiono di vitalità ed acquistano un suono diverso un suono più gradevole perché iniziano ad ammantarsi di eros a eros gli prudono le mani cosa vorrebbero fare le mani di eros vorrebbero afferrare ciò che abbiamo di unico e impastare quelle parti di noi che non conosciamo per superare la profonda scissione tra luce e ombra tra maschile e femminile l'eros è una forza aggregante che ama intrecciare gli opposti dando espressione ai loro rapporti eros connette per far fluire il fiume della vita questa è la fecondazione entrare e creare connessioni vitali connessioni significa rapporti e relazioni un bravo psicoterapeuta dovrebbe sapere che innanzitutto dovrebbe essere lui quella connessione quel cambiamento che vorrebbe vedere nel paziente solo così può attivare nel suo paziente il coraggio di venire fuori allo scoperto il coraggio di erotizzare la sua sincerità come si fa si fa divenendo incandescenti diventando materia incandescente questo è il principio che un terapeuta dovrebbe attivare nel setting se il terapeuta non dialogasse eroticamente con qualcosa che gli urla dentro che fa male e che chiede il diritto di esistere non avrebbe alcuna possibilità di entrare in contatto con altre persone che hanno anche loro un'analoga esigenza psicologica cos'è che ci apre alla vita eros che contatta eros è la più potente delle occasioni per avvicinare e riconciliare tutti gli opposti presenti in ognuno di noi le forze erotiche sono la palestra della nostra evoluzione psicologica del resto la trasformazione psichica avviene all'interno di un rapporto 2 questo perché l'inconscio si proietta sull'altro l'anima si incarna nell'altro ed è sempre un altro che è capace di attivare in noi tutto il coraggio e l'ardore necessari all'azzardata ricerca di quella parte unica di noi stessi che contiene il segreto del nostro progetto esistenziale ma occorre coraggio il coraggio per cadere in amore come si dice cadere significa poter superare il nostro piccolo io con tutte le sue false identificazioni ecco perché ci vuole una grande forza interiore per essere sinceri con se stessi e quindi incontrare se stessi il paradigma che contempla il riscatto psicologico presuppone una comprensione non solo intellettuale ma soprattutto emotiva di sé e presuppone una profonda partecipazione emotiva al processo di ricerca la ricerca si deve erotizzare non possiamo capire fino in fondo il significato di questo percorso esistenziale se non lo abbiamo percorso noi stessi così come non possiamo capire l'incontro con l'ombra se non conosciamo la potenza della sua distruttività e nemmeno possiamo comprendere il concetto di anima senza aver fatto esperienza del dolore e della sua forza raggiante nelle nostre relazioni la forza che ci consente di liberarci dalla paura è una forza misteriosa ma potremmo definirla artistica è la forza creativa dell'artista ora io non so se l'artista sia un uomo libero perché nessuno è completamente libero dai suoi complessi affettivi tuttavia è la ricerca che è salutare la ricerca stessa cosa cerca l'artista come dice il saggio l'uomo cerca l'uomo cioè cerca l'umano che può promanare soltanto da se stesso ecco che se la ricerca va avanti ciò vuol dire che la vita scorre e il nostro sguardo non è più rivolto al passato ma al presente al futuro a testa alta adesso vi prudono le mani buone ricerca